E' il Milan a caratterizzare questa giornata di calcio-mercato, il Milan che parla in maniera fitta con il Chelsea, il club rossonero vuole il forte centrocampista Essien. La trattativa è davvero avanzata, c'è un nodo però da sciogliere. Il club rossonero sostanzialmente chiede al Chelsea di contribuire al pagamento di parte dell'ingaggio dello stesso Essien. Comunque potrebbe essere lui il primo rinforzo per Clarence Seedorf dopo gli arrivi di Rami e Donda. Il Bologna è sempre al centro delle trattative di mercato in queste ore perché sul tavolo del club Felsineo c'è sempre la superofferta del Guangzhou Evergrande, il club cinese allenato da Marcello Lippi che vuole fortemente il capitano, il simbolo del Bologna Diamanti. Il Bologna ci sta seriamente pensando. Se dovesse partire Diamanti comunque il club rosso-blu ha già pronte le alternative. La prima è quella legata al ritorno dell'attaccante in forza al Genoa, ovvero Alberto Gilardino. In quel caso se dovesse Gilardino passare al Bologna il Genoa di Preziosi pensa di riportare Borriello in maglia rosso-blu. Della Bologna dicevamo non solo la pista Gilardino ma anche quella che porta al giovane Giorgi Cianturia. Il Bologna è un attaccante molto giovane classe 93, Cianturia georgiano gioca in Olanda nel Vitesse in patria e soprannominato il Messi di Georgia. È chiaro che comunque è tutto da scoprire, comunque il Bologna ci sta seriamente pensando. Rosso-blu attivi anche in uscita con Moscardelli che ha rifiutato la soluzione olanense in Portogallo ma ha diverse richieste in Serie B. Il Latina soprattutto spinge forte sul bomber, sull'attaccante Moscardelli. Il Napoli non si ferma a Giorginio, insiste sempre per Gonalons, mentre la Fiorentina ha piazzato un colpo piuttosto importante assicurandosi Anderson del Manchester United che presto sarà in città, sosterrà le visite mediche e presto sarà a disposizione di Vincenzo Montella. Il Genoa continua a fare acquisti in casa Juventus dopo aver prelevato De Ceglie, prende in prestito con diritto di riscatto anche l'altro, a questo punto ex juventino Marco Motta, dunque ulteriore rinforzo a disposizione di Giampiero Gasperini, un rinforzo anche in casa Livorno per il neotecnico Di Carlo. arriva dalla Sampdoria Castellini, trattative avviate, alcune anche calde in questi ultimi giorni di mercato che promette scintille.